Giulio Golia, Totò Fattazzo, è questo il personaggio che creò nel lontano 1998, il buon Giulio Golia, personaggio di Le Iene. Chi era questo personaggio, Totò Fattazzo? Era per l'appunto un uomo di semplice natura, di origini umili, il quale si poneva delle domande riguardanti le ingiustizie dell'Italia e quindi cercava di, in qualche modo, in qualche maniera, cercare di risolvere tutte quelle che sono le ingiustizie umane che eventualmente ci sono. E questo personaggio, ve lo dico senza falsa retorica, come direbbe Andrea Ripre, me lo ricordo molto bene anche perché è un personaggio che seguivo insieme a Giulio Ulco, che ci sarà però dopo, quindi dopo un po' di tempo. È un personaggio davvero troppo semplice, ma anche molto molto attento a tutte quelle che sono le dinamiche umane e tutte quelle che sono le situazioni dell'Italia. E quindi, diciamo così, che ne ho un ricordo molto piacevole, non brutto, non opaco, ma soprattutto un ricordo davvero molto positivo. A Giulio, Goriatico continua nel tuo impegno alle Iene perché sei sicuramente una Iena in gamba, che ti sai far vedere, ti sai far apprezzare dal tuo pubblico, che giorno dopo giorno, per così dire, ammira tutto quello che di straordinario riesci a fare. E ciò lasciami dire che da buone a tuo totale favore. Bene, complimenti caro Giulio, nel caso mi stessi guardando, il video termina qua. Un saluto, iscrivetevi e a presto.